Vogliamo una chiesa che sia fraternità, dove tra gli umani si vive la carità. Avvicinare i giovani alla chiesa con la musica, ecco il modo trovato da Monsignor Antonio Stajanò, vescovo di noto, che negli ultimi tempi si è distinto per le sue doti canore e per la capacità di trattare temi anche complessi all'interno delle sue omelie cantate. In occasione della giornata dedicata ai giovani, Monsignor Stajanò ha cantato Il guerriero di Marco Mengoni e la cura di Franco Battiato, sorprendendo così il pubblico di Modica nel Ragusano. L'esibizione è terminata con un brano rap improvvisato. Vogliamo una chiesa che sia paternità, ha rappato il vescovo, dove tra gli uomini ci sia più carità. Vogliamo Gesù nostro guerriero che sia al nostro fianco con un grande dono, il dono dell'amore. E arriva anche la standing ovation da parte del suo pubblico. Immediatamente il video del vescovo rock, così effettuosamente chiamato dai suoi fedeli, diventa virale e fa il giro del web. Ma chi è il vescovo di noto? È un docente di teologia ed al ragazzo suonava la chitarra. Gli suoi idoli erano Edoardo Pennato, Renato Zero, De Gregorio e Guccini. Ha cominciato ad inserire le sue canzoni all'interno delle omelie circa un anno fa, quando, proprio in occasione della giornata dei giovani, aveva cantato un altro brano di Mengoni, che, secondo il vescovo, nelle sue canzoni metterebbe il pensiero di Monsignor Stajanò. Memorabile anche l'omelia per i Cresimandi di Scicli dello scorso 22 marzo, dove il sacerdote cantò Vuoto a perdere di Noemi. In passato, Monsignor Stajanò aveva cercato di arricchire le sue messe citando versi di grandi autori della letteratura italiana, come Dante e Leopardi, ma sembra che fra il suo giovane pubblico quei versi non sortissero l'effetto desiderato. Ecco quindi che decide di adottare il metodo musicale con successo. Ma la musica per il vescovo di noto è anche vista come mezzo di denuncia sociale. Cantando Menconi ha anche espresso un pesante contanna nei confronti dei funzionari pubblici corrotti.